Sono Sergio Sant'Ancelo, vivo a Catania dove lavoro anche, faccio ligerista dentale, lavoro da 12 anni, ho voluto frequentare il Perio Campus perché ho voluto dare una svolta lavorativa nel perfezionare ciò che mi piace da sempre, cioè di lavorare in team e soprattutto di lavorare nel campo della parodontologia. Se dovessi dare un giudizio per quanto riguarda il corso, il corso è ben organizzato, soprattutto il fatto del Campus del Full Inmission, il giudizio è sicuramente positivo perché praticamente il fatto di stare, soprattutto per chi come me vive lontano, il fatto di in 4 giorni concentrare il corso è molto positivo, più che venire più volte da noi, è molto più comodo per chi, soprattutto come me, viene dalla Sicilia e quindi fa tanti chilometri.